Doveva essere la nuova sede provvisoria del mercato e invece questa mattina a Valle, popoloso quartiere del capoluogo, di Bancarelle nemmeno l'ombra. Gli ambulanti che già avevano bocciato la proposta del sindaco hanno scelto in massa di protestare e sfilare per la città. Da Campetto Santa Rita, altra sede ipotizzata, fino al comune poi in prefettura, uniti per dire che il mercato non si tocca e che in attesa che sia pronta l'area di Campo Genoa la fiera bisettimanale deve continuarsi a tenere nel piazzale antistante lo stadio Partenio. Ormai è muro contro muro, la protesta si è fatta più dura dopo che il sindaco aveva chiesto di incontrare separatamente le varie associazioni che rappresentano la categoria. Gli ambulanti hanno rifiutato, leggendo nella richiesta del primo cittadino il tentativo di dividerli tra buoni e cattivi. Il corteo si è dunque mosso dal comune fino alla prefettura con un tentativo presto rientrato di bloccare il traffico in piazza Libertà. Tanta la rabbia tra gli ambulanti che hanno accusato il sindaco di essere bugiardo, autoritario, di voler lasciare sull'astrico centinaia di famiglie. La querel va avanti da tempo. Sullo sfondo la questione del pagamento dei tributi. Molti ambulanti non sono in regola con il pagamento delle imposte. Sul punto il sindaco è stato chiaro. Solo chi sanerà la propria posizione potrà partecipare al mercato. Gli ambulanti però contestano gli aumenti definiti spropositati. Sulla TOSAP hanno già presentato ricorso al TAR e sulla TAR richiedono tempo e dilazione di pagamento. La richiesta è quella dalla quale siamo partiti. Cioè praticamente noi, così come faremo anche con i nostri legali, chiederemo la sospensiva dell'ordinanza che ha sospeso il mercato. Chiedo scusa per il gioco di parole. Nelle more della sospensiva eventualmente gli operatori, finché non sarà posta un'altra alternativa che sia concordata con le parti. Noi Campogeno ci è stato catapultato ma noi non abbiamo visto né una carta, né un progetto esegutivo, non abbiamo visto nulla. Nelle more il mercato dov'è? Perché io aggiungo che se i pullman dovevano essere spostati giustamente da Piazza Macello perché inquinavano però io ho anche visto sui giornali che nei primi giorni del 2020 ci sono stati già otto sforamenti e quindi magari è tutto un attimino con più calma e seduti davanti a un tavolo magari alla presenza del prefetto che può mediare, cercare di trovare la soluzione ma non interesse degli operatori, non interesse della città in questo caso.